Grazie a voi, grazie a François, andiamo velocissimi, riprendendo quanto diceva il direttore Viola, il tasso di litigiosità nel Paese. Allora è sempre difficile arrivare in conclusione di due giornate così intense, però quello che ho capito io, vediamo se siamo tutti allineati su questo, è intanto abbiamo registrato rispetto agli anni scorsi un maggior ottimismo cauto, ma un maggior ottimismo da parte vostra, degli operatori del settore, gli anni scorsi c'era più un cahier d'Oléans che quest'anno per fortuna è venuto meno, ci sono varie richieste, ma la cosa più importante a mio avviso è, riconducendomi anche a quello che aveva appena detto il direttore Viola, la necessità che i quattro angoli di questo tavolo, che è la digitalizzazione del Paese, si muovano all'unisono e in parallelo. Per quattro angoli intendo da un lato il tema dei player o dei players, ma insomma a partire da Telecom Italia e poi ne parleremo con il Presidente Recchi e quindi il ruolo di chi deve mettere la parte infrastrutturale. L'altro angolo è rappresentato dalle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, lo dico conoscendole bene, i dati che sono emersi in queste giornate sono abbastanza per alcuni versi deprimenti sull'utilizzo reale e digitale da parte delle imprese. Il terzo angolo che deve muoversi in contemporanea è però anche quello vostro, e qui poi vi arriveremo, cioè la sensazione, che è più di una sensazione, è che il mondo dell'information technology si sappia raccontare molto male. Cioè avete una grande competenza ma una bassa capacità di narrazione, che è un tema molto renziano, ma in questo caso non c'entra con il Presidente del Consiglio. Cioè sapete spiegare male quello che è l'apporto reale e quindi poi succede che quando incontrate il responsabile di un'impresa vi sostanzialmente manda la responsabile IT ed è già un fallimento perché se fosse ben spiegato dovrebbe essere lui in capo a tutto il processo. E qui arriviamo al quarto angolo del tavolo che è la leadership. Leadership sia dell'imprenditore ma anche della politica. Per cui metterci la faccia, crederci in prima persona, non dare solo degli slogan di carattere ampio, ma mostrare che la politica porta avanti per prima la digitalizzazione del Paese, incontra i responsabili da delle tabelle di marcia serrate. Ecco, se tutti questi quattro angoli si muovono e lavorano assieme ce la facciamo. Se no, rischiamo un fuga in avanti e battuta del resto e sostanzialmente un caos generalizzato. Ultima nota, è quanto mai importante questo perché, come hanno chiedito altri relatori, siamo in una finestra di opportunità che vale per l'economia in generale, ma vale a maggior ragione nel vostro settore. Cioè se il PIL digitale deve crescere dell'1,5% con un'economia che fa lo 0,8%, siamo alle briciole. Nel senso che se non si sfrutta questa possibilità che è fatta da tassi di interesse bassi, euro debole, petrolio e commodities basse, ripresa economica anche se non forte ma in atto, non illudiamoci che fra 3-4 anni ci possa essere in un contesto così favorevole.